La prima ragione è la rivendicazione della centralità, insomma, della figura del giocatore che penso sia una figura di grandissima importanza, una figura che col tempo è cambiata e credo che sia anche migliorata e per cui penso che sia opportuno nel momento in cui ci sono e ci saranno da prendere delle decisioni che riguardano l'aspetto calcistico, ritengo opportuno che i calciatori facciano parte di queste gradative. Nasce oggi sicuramente non in antagonismo con l'AIC, magari si potrà in futuro, si potrebbe creare una bella sinergia, si guarderà un po' come evolveranno le cose, sicuramente la cosa che si vuole fare inizialmente è instaurare dei rapporti proficui con la Lega, con la Federazione. Credo che alla fine lo spettatore che va allo stadio, ma soprattutto anche il giocatore che deve giocare, le condizioni migliori in certi periodi, soprattutto se giochi in certe parti d'Italia, sia quelle di giocare a certi orari. Quello dell'anticipo è un discorso che non abbiamo affrontato, però è anche vero che è un discorso che ci siamo trovati sul piatto come le telecamere dentro lo spogliatoio senza che nessuno sapesse niente e questo è un errore, prima di tutto nostro, imperdonabile, perché alla fine anche noi dovevamo probabilmente destarci prima. Secondariamente è un errore da parte di chi l'ha partorito e di chi ha siglato certi contratti perché è irrispettoso e in questo momento non è una cosa che va di pari passo con i tempi e con la figura del calciatore. Non deve secondo me mai più accadere nel momento in cui ci sono da prendere decisioni importanti per il calcio che il giocatore non sia presente.